e allora io direi che ringrazio di nuovo tutti i relatori e le relatrici e anche ringrazio le interpreti che sono state di una professionalità direi incredibile complimenti a loro e adesso direi ci daremo dieci minuti per poter chiudere entro le otte e mezzo al massimo per qualche domanda e qualche intervento che chiederei a chi lo vuole fare di tenersi entro i due minuti massimo altrimenti si chiama sforare un primo ecco passo la parola alle traduttive e allora darei la parola a Renato che si è già segnato e chiederei a chiunque vuole intervenire di scrivere sulla chat il suo nome e cognome preceduto da asterisco the first one is Renato and then I would like to ask you if you want to ask a question to write your name in the chat and please put an asterisco before your name and write it in the chat no sto dicendo se mi sentite volevo salutare tutti quelli che stanno partecipando gli Orgos, Anle Strat e quelli che stanno ascoltando e quindi per questo lavoro comune che facciamo come foro italiano e movimenti per l'acqua all'interno dello European Water Movement in particolare io e Lucio I would like to thank all of you, Anne, but also all the other participants and the Italian Forum for Water Movement within the context of the European Water Movement and in particolare I would like to thank Lucio for his work. Thank you all. Sì, e voglio ricordare a tutti quanti che come European Water Movement a inizio ottobre faremo una grande assemblea europea per rilanciare il tema a livello globale e poi volevo comunicarvi che Rodrigo Mondaca mi ha detto, mi ha comunicato che a breve farà un giro in Europa e quindi ci sarà modo e possibilità di organizzare un incontro con questo nascente forte movimento sociale e politico del Cile che ripubblicisera l'acqua. È finito. Just to tell you that we are organizing a big European event in October and that Rodrigo Mondaca told me that he's planning to come to Europe and so it will be possible to cooperate with this real fighter of Cile and to bring this battle for water forward together. Thank you. That is my final speech. Grazie, grazie Renato per questo promemoria anche per le iniziative future e passo la parola a Lucio Gentili che ha chiesto di intervenire. Thank you Renato. Thanks for reminding about this event and now I'd like to give the floor to Lucio Gentili for his question. Ecco. Si sente, no? Bene. Va beh, breve. Comunque, veramente grazie a tutti i relatori e ripeto anche i ringraziamenti e le congratulazioni ad Elisa ed Elisabetta. Volevo, questo è un commento ma è anche una domanda uno degli ostacoli che ci sono quando le municipalità devono rendere pubblico il servizio idrico è il ricatto del bilancio comunale e del patto di stabilità magari ereditato proprio da precedenti amministrazioni. Purtroppo è un ostacolo reale perché perfino municipalità orientate almeno in linea generale alla questione pubblica pur di avere i profitti e i guadagni dalla forma privata avevano dei soldi pure le municipalità per ripianare il bilancio. I wanted to thank you all again thanks to the speakers for their work and for sharing their experience thanks to the interpreters. My, I have a comment and I have, and it is a question as well because I know and we all know that municipalities face many challenges when they want to remunicipalize the water because there are issues with their balance sheet so even when they're genuinely interested in remunicipalizing water generally speaking they steal the money still need the money from the private sector so that they can compensate for their issues in the money. se non si rivede il concetto del debito ATTAC e altre organizzazioni l'hanno evidenziato si trasforma in qualcosa di naturale si riducono le spese e nonostante ciò l'aumento della quota di interessi fa aumentare ugualmente il debito quindi è chiaro che questo non va Now we need to reconsider the question the issue of debt because there are less expenditures less investment on water but still debt keeps increasing so this is a problem that it seems we are unable to solve somehow C'è un altro rischio anche a livello locale e non solo regionale o statale che sono le cause dei tribunali privati previsti da certi trattati commerciali Another risk at all levels local, regional and national are that often we have to go to court E questo è un sistema che come sappiamo pone dei ricorsi soltanto da parte delle imprese non da parte delle popolazioni o delle istituzioni ed agisce anche quando eventualmente uno stato si ritira dal trattato commerciale rimane comunque in vigore praticamente questa penalizzazione dovuta a questi tribunali privati fine grazie So just to conclude the problem is that many commercial treaties have provisions that allow private companies to start legal action so private companies do appeal do start legal action and even when the contract is terminated the states have to keep paying for their services and for what is foreseen in the contract So this is just just a final remark to conclude Grazie Lucio per questo intervento e queste segnalazioni che mi sembrano opportune io non mi sembra di aver visto altre persone che hanno chiesto di intervenire per cui dico solo se tra i relatori e le relatrici c'è qualcuno che vuole non dico rispondere ma integrare il proprio contributo sulla base di quanto è emerso soprattutto dall'intervento di Lucio è ovviamente libero di poterlo fare So thank you Lucio for these useful remarks and if I didn't see any other question in the chat or comments about that but if there is someone who would like to comment or ask for clarification regarding the remarks of Lucio feel free to do that ok just because we don't have a lot of time it would be a long discussion on that but just just to answer to answer to the comment of Lucio made actually it's not right it's not right if I take the case of Paris and a lot a lot of other municipalities which decided to re-municipalize in fact the re-municipalization didn't cost anything to the municipality because there is always a mistake about the understanding of the water system in Paris as in as in many many cities the users the the citizen pays by the water bill the other water bill pay the water system so in fact it's not it's not based on taxes it's not based on taxes it's based on the water tariff so what does it mean it means that instead of paying the water bill to private company you pay a water bill to a public company and so of course I know that in some cases abroad there is maybe some you know okay maybe some as you mentioned agreement agreement contract I don't know exactly how I think more in Latin America you know for with the concession contract but in Paris for example we 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 waited for the end of the concession time for the translation because the public I don't understand English so that I don't have time to answer this question but I would say that probably the interpretation data is not correct because if I think they pay to a public I know I'm that in in some cities there are agreements or contracts that provide something for especially in Latin America for what about the concessions but you can go on just just a final sentence just to say that why so many why so many private companies and multinationals wanted and still want to be involved in in water system and with with leasing of concession contract why because water water service is more or less lucrative it means it means that you know usually and especially in Europe the majority of people pay the water bill and the system is based on the water bill e quindi la domanda è perché comunque così tante aziende anche private vogliono comunque essere coinvolte nel processo di gestione dell'acqua perché è un processo comunque lucrativo a fine di lucro e soprattutto in Europa molte persone pagano le loro bollette sull'acqua grazie grazie thank you thank you very much Ann also for this clarification e passo la parola a Carmine Episcopo che ha chiesto di integrare and and now I would like thank you Ann and now I would like to give the floor to Carmine Episcopo who wanted to add something si no allora anche io è una risposta è una domanda che meriterebbe di un un tempo più lungo però dobbiamo dire due cose una la diceva Anna Lestrat con le sue con la sua indicazione vorrei aggiungere però un'altra cosa anche noi ci siamo trovati di fronte quando abbiamo voluto redigere questa delibera e ripubblicizzare l'acqua ad una serie di difficoltà ne citò solo alcune il patto di stabilità le leggi di bilancio i piani di riequilibrio tutte le norme sull'armonizzazione finanziaria dò il tempo per la traduzione and also as I as Ann was saying I would like to add two things I know that it would take a long time to give a comprehensive answer but I will be brief as Ann was saying also in Naples when we opted for the fight to the privatization we faced several problems the stability plan different laws about the budget and re-equilibration plans and many other difficulties and many things and many things and many things they have shown the spectrum of the damage but we have to say something that behind all this Ecco perché parlavo di delibere costituzionalmente orientate, perché noi abbiamo redatto una delibera davvero molto articolata, già che sappiamo una cosa, che ancora prima di parlare di pareggio di bilancio esistono i diritti essenziali delle persone, ed è su questo che abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato con giuristi, abbiamo lavorato con esperti, abbiamo lavorato con osservatori e nonostante anche tutti i servizi dell'ente ci dicevano che era una delibera molto, molto azzardata, noi sapevamo di star facendo la cosa giusta. Ed è una delibera che abbiamo discusso in tante sedi, ovviamente, anche nelle sedi giudiziarie e non ci hanno mai dato torto. Quindi questo è un punto essenziale. Se la Costituzione fa da farlo, la Costituzione mostra la strada esattamente per ripubblicizzare l'acqua. Grazie. Grazie a Carmine Episcopo. So, we worked together with experts and observatories and all the people said that ours was the right decision, the right deliberations, even though there were many risks and obstacles, we knew that we were right. and in all the sessions, all the debates in courts and everywhere else, everybody said this is right because this is what the Constitution says. And despite the burden and the debts and all of that, first of all, people should be at the center of our interest and they are at the center of our Constitution. So, we should follow those principles and implement those values. Grazie, grazie di nuovo anche per questa integrazione che mi sembra molto rilevante perché sappiamo anche che l'azione amministrativa e anche il diritto debba essere forzato in certi momenti e in certi settori come quello del diritto all'acqua. Thank you for this additional remarks that I consider very important because we all know that sometimes also the administrative action but also the law must be forced when we are talking about essential values such as water. E io direi che mi accingo la chiusura iniziando i ringraziamenti che sono veramente tanti a partire da le relatrici e i relatori, Anne Lestrat, Dorothea Herlin, Satoko Kishimoto, Luisa Melgares, Carmine Piscopo e anche Rodrigo Mondaga che non so se sta seguendo, non credo più, però veramente grazie per la disponibilità e per le parole e le riflessioni importanti che avete voluto condividere con noi. Once again, I would like to thank Anne Lestrat, Dorothea Herlin, Satoko Kishimoto, Luisa Melgares and of course Carmine Piscopo and also Rodrigo Mondaga, I don't know if he's still connected and he's listening to us. Thank you for sharing such important remarks and values with us. E poi ringrazio di nuovo i complimenti alle interpreti Elisa e Elisabetta, un veramente prezioso contributo. Thank you again to our interpreters Elisa and Elisabetta for their precious contribution. E poi per tutto il sostegno che è stato dato in queste settimane per la costruzione di questa iniziativa a partire dal Comitato di Torino, Renato, Lucio, soprattutto Simona, Riccardo, Laura, un'altra Simona perché senza il loro lavoro non saremmo riusciti ad arrivare a questo risultato. And of course I would like to thank the Committee of Turin for their precious and valuable work. So Riccardo, Lucio, Simona 1 and Simona 2 and Laura because without your effort and without your help we wouldn't be able to organize this event. Ovviamente ho dimenticato qualcuno. Mi viene in mente subito Stefano Risso. Of course. Stefano Risso. Thank you Stefano. E Mariangela che ci sta continuando a seguire sin dall'inizio appunto da Torino. And Mariangela that is, she's following us from Turin and she's started following us since the very beginning of this event. Credo di non aver dimenticato nessuno, lo spero, però è un ringraziamento questo generale. Mi sembra che sia stato un dibattito molto interessante, come sempre avvenuto quando ci sono stati questi relatori, visto che con tanti ci conosciamo da tanti anni. Io vi ringrazio ancora e l'auspicio è di ritrovarci anche nei prossimi mesi, visto che il percorso a difesa dell'acqua come bene comune necessariamente dovrà continuare anche con rinnovata forza. Grazie ancora. Thank you all again because when we have such an amazing speaker it is always a very interesting debate and we know that we have to go on in the fight for water. Thank you all. Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci.